dalla santa casa di loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'angelus e del santo rosario con le vostre candele accese offerte alla madonna di loreto preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla vergine lauretana tutte le vostre intenzioni dalla santa casa di loreto preghiamo l'angelus e il santo rosario in comunione con coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione preghiamo maria regina della pace per coloro che ci governano affinché lo spirito santo guidi le menti e i cuori nel giusto discernimento che porta alla vera pace e al vero bene l'angelo del signore portò l'annuncio a maria e della concepì per opera dello spirito santo ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte e nel verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte e al vero si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi peccatori ave maria piena di grazia il signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte e amo prega per noi santa madre di dio perché siamo resi degni delle promesse di cristo preghiamo infondi nel nostro spirito la tua grazia o padre tu che l'annuncio dell'angelo ci hai rivelato incarnazione del tuo figlio per la sua passione e la sua croce con intercessione beata vergine maria guidaci alla gloria della risurrezione per cristo nostro signore amén ave piena di grazia ave vergine maria ave piena di grazia ave vergine maria nel primo mistero doloroso meditiamo l'agonia di gesù nell'orto degli olivi peter nostro qui sinceri santifici etro nomen tu a te bene a te regnion tu fiat voluntas tua sicuti in cielo et in terra panem nostrum quotidianum da nobis odie et dimite nobis debita nostra sicuter nos dimittimus debitoribus nostris et nenos inducas in tentationem sed libera nosa malo amén ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui iesus sanca maria mater dei ora pronobis pecatoribus nunc et in hora mortis nostre am ave maria grazia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus benedictus fructus ventris tui iesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuoi mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuoi mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuoi mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuoi mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuoi mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuoi mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuoi mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuoi mulieribus, benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Sancta Maria, Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi, lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel secondo mistero doloroso, meditiamo Gesù che viene flagellato la colonna. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è l'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel terzo mistero doloroso, meditiamo Gesù, che viene incoronato di spine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci qui oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte, Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli, Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quarto mistero doloroso, meditiamo Gesù che sale al Calvario e incontra Maria, Sua Madre. Padre nostro, che se nei cieli sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sante Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, pregatori, adesso e nell'ora di nostra morte, è Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, è benigni. Sante Maria, Madre di Dio, prega per noi, pregatori, adesso e nell'ora di nostra morte, è Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Nel quinto mistero doloroso meditiamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Darci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Adesso è nell'ora della nostra morte. Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. 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 Adesso è nell'ora della sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, di tutti i Santi, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agni pietati, prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suffiche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda di essi la luce perpetua, riposti nel pace. Amén. Su di voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie in modo particolare, sui sofferenti, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica e vi accompagni Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. O Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino qua giù. Ave, ave Maria. 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 abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario grazie per aver pregato insieme con noi continua la tua preghiera con l'offerta di una candela quella fiamma sarà il segno della tua fede della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.